E' stata riaperta solo nel tardo pomeriggio di oggi la stradale Aurelia in zona Levante di Sanremo. La strada è interrotta dalle prime ore di ieri in zona lavesca per il pericolo che alcuni alberi presenti sul ciglio della strada sotto i colpi del vento potessero sradicarsi e precipitare sulla carreggiata. Per tutto il giorno di ieri i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona interdetta al traffico veicolare. L'intervento di messa in sicurezza ultimato poi nel pomeriggio di ieri aveva permesso agli operai della riviera Trasporti di ripristinare la linea danneggiata che ha ceduto a causa della caduta di un grosso ramo. Annas, proprietaria e competente del tratto di strada chiuso, si è fatta carico di ultimare i lavori. La circolazione per la durata dei lavori di ripristino è stata deviata sull'Aurelia Bis. Non molto lontano, in Valle Armea, al Mercato dei Fiori, hanno preso il via anche i lavori di sostituzione dei cupolini di Velti dal Vento. L'intervento, che sarà eseguito da una ditta specializzata, dovrebbe concludersi entro venerdì. Fino ad allora rimarranno chiuse le palestre. Alla prossima Grazie a tutti